Sarebbe scaduto l'accordo di programma sul nuovo ospedale della sesta provincia pugliese, sottoscritto tra regione e governo. Si rende dunque necessaria una rinegoziazione per rimettere in moto il procedimento, lo denuncia il comitato nuovo ospedale di Andrea. E come ripartire da zero, dichiarano in una nota congiunta, avendo perso più di due anni inutilmente. L'accordo di programma è scaduto a dicembre scorso, bisogna assolutamente prorogarlo, in questo senso è necessario che tutte le forze politiche, tutti i parlamentari, governo e regione collaborino per questo scopo e ci si affretti a fare questa proroga e a trovare i fondi necessari per poter procedere. Il tempo dell'attesa è finito, ora si passa alle pretese. La regione dovrebbe sottoscrivere subito un nuovo accordo con il ministero e chiedere ulteriori fondi sull'articolo 20 per il progetto di Andrea. Quindi dovrebbe andare all'approvazione del progetto definitivo e chiedere al comune di fare la variante. Infine andare alla gara d'appalto per la costruzione. L'azione del comitato è stata quella di pressare continuamente sulla regione per ottenere risposte e reazioni immediate. Ci hanno rassicurato che il nuovo pleano clinico gestionale post-covid è stato rassegnato ed è stato mandato alla ASL BT negli giorni scorsi perché venga licenziato e approvato. A febbraio ci dovrebbe essere un consiglio comunale monotematico sul tema del nuovo ospedale. È importante che il consiglio nella sua unitarietà stigmatizzi, ha spiegato Savino Zigni, tutto quello che è accaduto a danno della comunità non solo andreese ma dell'intera BAT.